Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Prudenza per nebbia banchi su gran parte della Uno. Per il maltempo segnaliamo inoltre che per oggi sono previste piogge temporali su gran parte della Toscana. Raccomandiamo la massima prudenza alla guida. Voltiamo pagina per il traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tramvia. Da domani, lunedì 6 novembre, modifiche dell'assetto viario in zona stazione. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci per il traffico navale sono cancellati per maltempo i traghetti Piombino-Rio Marina delle 8.20, Piombino-Cavo delle 8.40 e Piombino-Cavo delle 12.20. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!